Perchè dovremmo essere identificati, qual è la norma, la legalezza che abbiamo in Europa? Non so se mi rendete conto che siete un corpo istario, che è una storia che le mani si è portato molto a posto, che è un corpo istario, la dimostrazione che in questo paese la legge esiste solo quando si reclamano diritti e mai quando si fanno gli abusi di potere o si beppe da violenza, a danno di chi tutti i giorni non sa come pagare la spesa, come andare avanti, fuori in pieno di gente che sta dalla nostra parte, siete solo delle divise in mezzo alla solidarietà che ci viene portata da fuori, vergognatevi e che la DIGOS ci spieghi qual è la legge in base da quando è reato quello che abbiamo fatto. S� equilibrio, ci dobbiamo spiegare e abbiamo arrivato a sapere lo che ci viene richiesto, molto po' di rilaschingizzazione comunicativa, se no è arbitrarietà più totale, è un'inizione di un' non si vogliono fare l'opportunità di essere portati, ad essere richiesti i documenti per essere denunciati, per aver fatto cosa, rispondiamo di voi alle violenze che perverrete quotidianamente e non ultima con la diosia al CIE, vergogna! vergogna, vergogna, vergogna!